Si è svolto ieri presso il salotto comunale di Battipaglia l'incontro dibattito sul masterplan per lo sviluppo urbanistico territoriale della fascia costiera che da Salerno va ad Agropoli. Un piano che si pone l'obiettivo di realizzare uno sviluppo infrastrutturale omogeneo su tutto il territorio litorale attraverso un partenariato pubblico-privato e che coinvolge sei comuni per un totale di 295 mila abitanti. Se non si parla di riqualificazione della fascia costiera e di rilancio non andiamo da nessuna parte. Sono convinta che questo territorio da qui a qualche anno avrà un cambio completamente di volto per quanto riguarda l'area industriale, l'area ZES, molto per il campo dell'agricoltura, molto hanno fatto i nostri imprenditori. Ma ora bisogna puntare alla riqualificazione della fascia costiera. In una crisi economica noi pensiamo che l'economia del territorio può sicuramente avere uno slancio favorevole riqualificando la fascia costiera. E' tanto che parliamo di masterplan ma noi ci accingiamo la settimana prossima ad affidare al professionista il PUC che questa città si aspetta dal 72. Bisogna partire. Voglio ringraziare i distretti che hanno molto stimolato questi incontri e quindi per la prima volta noi abbiamo sindaci, abbiamo imprenditori che abbiamo coinvolto oggi e abbiamo Destrasiele, insomma la regione, la provincia, tutto ciò che ci vuole per riprendere un vecchio discorso che era partito già negli anni 90, il progetto Costa del Siele. E oggi si riparte qui, all'epoca il coordinatore era l'architetto Gian Paolo Lambiasi e ancora oggi noi approfittiamo della sua esperienza nel settore ed è, voi sapete benissimo, un delegato personale perché puntiamo molto su questo territorio. Riqualificare vuol dire ripartire anche dal problema della depurazione del mare, è una cerniera tra le due coste bellissime della costiera amalfitana e cilentana però noi abbiamo lo spazio che loro non hanno. Quindi se tu metti in percorso gli agriturismi, i territori, quello che ti può offrire, pianifichi, quali sono le infrastrutture che serve per andare avanti quindi coinvolgere il consorzio d'Estrasele perché lì abbiamo anche il problema dell'Idrovora che è un po' di rompe. Insomma bisogna puntare, ne abbiamo detto 50.000 volte, è ora di rimboccarsi le maniche e partire ma partire bene.